Salve a tutti ragazzi, come sempre Master Wall, carico, carico, carico. Allora ragazzi, vi parlerò di una cosa, di un semplice test per capire immediatamente se un tizio è dopato e la domanda è chi sarebbe disposto a farlo fra gli influencer. Allora, io vi dico subito che ovviamente sono disposto a farlo con nessun problema, ma non solo questo, qualsiasi esame sarebbe disposto, ma vi spiegherò perché è proprio questo. E il premesso che ho già fatto all'epoca il test antidoping con l'ufficiale della Guardia, eccetera, eccetera. Ma non sto adesso a tirare fuori tutto. Dunque, cosa voglio dire? Spesso qui sappiamo questo mondo che c'è qui, no? Il nostro mondo, la nostra nicchia, sostanzialmente qui vive di una doppia identità ed è inutile girarsi intorno. È inutile girarsi intorno, come molti dico l'umano è cosa c'è? A me cosa me ne deve fregare se uno è bombato, se spiega le cose bene, se le sa che è utile per tutti va bene, se diffonde il culturismo va bene, cosa ci interessa se è dopato, non ci deve fregare niente, facciamoci cavoli nostri. Questa è la filosofia che in genere c'è, che è molto forviante, che è il vero tumore della nostra disciplina, cioè il menefreghismo, l'ipocrisia, negare una realtà che invece è quella che costruisce, è come una realtà tridimensionale. Avete mai visto quelle... una volta da ragazzino c'erano le figurine, poi adesso hanno fatto anche degli aggeggi complicati, per cui si vede un'immagine tridimensionale che gira, uno la vede e dice questa è l'immagine. In realtà quell'immagine non è reale, è sotto quello che viene prodotto e viene mostrato, ma la vera realtà è quella sottostante. Cosa voglio dire? Che invece questo fatto qua è fondamentale, lo voglio ripetere. È fondamentale per qualcuno che si propone di diffondere il culturismo, insegnarlo, è fondamentale che lui stesso sia credibile, se no non ha senso niente, cioè ve lo volete mettere in testa, non ha senso nulla. Cioè se un tizio non è credibile, può dire qualsiasi cosa, ma semplicemente non è credibile. È come se, è come, lo so che questo esempio può essere banale, ma guardate io non ne trovo di migliori, e nessuno è riuscito mai a confutarmelo. Cioè io voglio insegnare a guidare bene in un circuito per avere tempi al giro molto forti, su qualsiasi circuito, no? Arrivo qua e vi dico, io so guidare molto bene, ma molto bene, perché i miei tempi al giro sono incredibili, vi faccio vedere, so il giro, la pista di Nardò, a Nanni, non so, al Nürburgring, questi sono i miei tempi, lo dice, ho in bocca e tempi incredibili, questo sa guidare veramente. Se non che non vi dice che macchina usava, cioè usava una Porsche o una Lamborghini, voi potete girare solo con delle Fiat Panda, dopodiché lui dice, io siccome avete visto i tempi che faccio al giro, io so guidare e vi insegno, solo che non vi dice, io ho la Porsche, voi avete la Panda e questo inevitabilmente. Cosa dovrebbe fare questo studio per essere credibile? È semplice. Allora, ragazzi, allora, io ho una Fiat Panda, ovviamente deve essere un fatto acclarato, e con la Fiat Panda e con tutti questi circuiti ho fatto tutti questi tempi. Allora, uno facendo una comparazione, no? con tutti quelli che hanno la Fiat Panda, ma è un esempio, cercate di capire il concetto. Vedendo che i suoi tempi sono veramente i migliori di tutti rispetto agli altri, dice, ho il bocca e tu sa veramente guidare, perché la macchina è la stessa. È chiaro il concetto. Quindi quando vedete qualcuno che è un bomberolo, che usa o che ha usato, per tutte le storiche, prima era nato, l'ha poi usato, tutte sciocchezze, non è credibile di nulla. Semplicemente perché? Perché c'ha la Porsche e voi avete la Panda. Allora, veniamo a noi. Quindi un influencer dovrebbe essere credibile. Che cosa dovrebbe fare? Molti dicono, ah, uno dovrebbe essere sottoposto al test antidoping, così quantomeno, se sappiamo che il test si può aggirare in questo modo, questo, quell'altro, sospendi prima, sostanze non riconoscibili, girate come volete. Io però vi dico una cosa, se un tizio assume regolarmente, per mantenersi a un certo livello, assume regolarmente sostanze che comunque sono classiche, poi sono sempre quelle, testosterone, sanazololo, oxandolore, che ne so, tremololo, buttarsi dentro quello che vuoi, ma sempre quelle sono le sostanze, che le prendono regolarmente. Se gli fate un test a sorpresa antidoping, sicuramente viene trovato positivo, non si scappa, per questo che poi molti non lo fanno, oppure annullano, accade anche negli altri sport, tutti i vetri avesse per non fare i test. Però, questa qui non è la vera soluzione, vi spiego il perché. Allora, innanzitutto, perché comunque questi test non lo farebbero, ma non è questo il vero punto, il vero punto è un altro, anche ammesso che uno sia disposto, la domanda è, chi glielo fa? Chi glielo fa? perché questi qui potrebbero tranquillamente anche dire, sì, va bene, venite a farmelo, chi ci va? Chi è che ha i mezzi tecnici, i soldi, per fare tutta sta roba? Cioè, bisognerebbe fare un prelievo fatto con i canoni che si devono fare, se no, non ha senso, ci vorrebbe ufficialmente stare lì, mentre viene fatto il prelievo, poi questi campioni vengono ad essere inviati con una via burocratica, un protocollo all'agenzia WADA, o quello che è in Svistra, non lo so, e poi dopo da lì c'è tutto un altro protocollo di giro, e poi c'è anche le spese da pagare, allora la domanda è, chi lo fa? Cioè, voi che ascoltate, voi che ascoltate qui, che siete interessati, se anche sfidate uno, è perché non fate essere tutti dopo, lui dice, beh, vienmela fate, voi cosa fate, ci andate? Cioè, non lo farebbe nessuno, questo già, per cui già questo li mette in una situazione di sicurezza, perché questa cosa non si farà mai, l'ho fatto solo io fino adesso, attendo prove contrarie, io l'ho fatto, anche per circostanze fortunate, allora cosa si potrebbe fare? Ragazzi, poi io guardate, ve lo dico subito, questa è una cosa veramente molto, molto semplice, ovviamente ci vuole il consenso dell'interessato, questo sì, perché nessuno può essere obbligato a fare una cosa, se nonna non dà il consenso, però, attenzione, siccome questo sistema qua, è molto, allora intanto è molto semplice, perché è un semplice per lì, evo ematico e sangue, come quando andate a fare le analgi, Che cosa fanno? Mettete lì, l'infermiera, buongiorno, buongiorno, cosa fai? Io farei analgi benissimo, mi metto un lacimo statico, se ne dà fastidio l'ago non guardi, mi raccomando, vabbè, comunque, tac, una provetta, pochiava quelli, infila l'altra, è una cosa che fanno tutti, no? Non è la fine del mondo, è un esame banale, ovviamente ci vorrebbe consenso, però, questa cosa è abbastanza semplice, giusto? Dopodiché, quello succede? Queste provette qui, ovviamente, con, diciamo, sia da parte di chi lo fa o dell'altro, insomma, verrebbero inviate a un laboratorio banale, che fanno gli esami, come ci sono in tutta Italia, banalissimi, e si misura, si misura il livello di testosterone nel sangue, e anche il livello di gonatropine, che è un esame che anche questo si fa, sono esami banali, la spesa è in risoria, adesso non ve la so quantificare, ma non stiamo ai 500 euro, o pass, e passa, l'esame anti-doping, più tutti i corollari, ovviamente chi propone il test, lo pagherebbe lui, ma ripeto, è una spesa irrisoria, poche decine di euro, credo, è una cosa che è fattibilissima, allora, perché vi dico questo? Perché vedendo il livello di gonatropine, e di test, e del rapporto di, anche il livello del testosterone, ma il rapporto fra epitestosterone e testosterone, sono due ormoni praticamente quasi identici nel organismo, che normalmente sono alla pari, ma se c'è un livello esogeno di testosterone, se il rapporto supera 6 a 1, è sicuro che sta assumendo, come sarebbe anche sicuro, se le gonatropine sono praticamente azzerate, vuol dire che c'è un'assunzione esogena, e gli stessi livelli, insomma, il testosterone libero potrebbe essere sotto i tacchi, o elevatissimi, insomma, da questo esame qui, poi tecnicamente, questa cosa, diciamo, si può anche approfondire, ma è molto banale, uno dice, ma perché se è così banale, allora non lo fanno a tutti, perché l'esame del sangue, un esame considerato invasivo, non è come le urine, e quindi quello lì, cioè non lo fa nessuno, non si pone anche, non viene nemmeno proposto, cioè, se uno sarebbe disposto, sì, ma nella cultura generale, nell'antidoppio, proporre esame del sangue, si sa che non lo farebbe nessuno, e quindi, così avviene, si fa solo quello delle urine, che non è invasivo, per cui, allora, cosa voglio dire, che con questo semplice esame, si può vedere un po' la situazione, quindi, perché se qualcuno è veramente così, sicuro, o dice che non è bombarolo, perché non sarebbe disposto a farlo, ma ovviamente questa cosa, poi riguarda certi soggetti, non tutti, non è che se andiamo da un professionista, un turista, gli dobbiamo dire sta cosa, è sottinteso, che nemmeno lui, starebbe lì a negarlo, magari non ve lo dice, ma non lo nega, è inutile fare queste cose, in certi contesti, io dico di farli laddove, laddove ci sono personaggi, diciamo, che lasciano dare adito a molti dubbi, molti dubbi, personaggi dove è del tutto, magari evidente che c'è questa, questa assunzione, però fino a prova contraria non c'è, cioè uno li vede e dice sì, è bombarolo, però le prove dove sono, le prove non ci sono, per la verità non ci sono anche le prove opposte, perché mettiamo in chiaro una cosa, quando si dice, fine a prova contraria, col test antidoping, nessuno è dopato, non è esattamente così, fine a prova contraria, quel tipo non si sa se è dopato o nato, in che senso, perché il test antidoping, può stabilire se è dopato, ma può anche stabilire se non lo è, se uno non lo fa, ambedue le possibilità sono aperte, non so se è chiaro il concetto, no? Quindi, invece con questo, semplice esame, si potrebbe fare, e quindi, quando ci sono certi diatribe, no? Perché io ho mai usato nulla, facciamo l'esame del sangue, un piccolo perlievo, vediamo cosa succede, certo, mi sono obbligato a farlo, io stesso ho detto, non è che si alza un tizio la mattina, uno scappato di casa, dice, tu devi fare l'esame del sangue, te lo propongo io, se non lo fai, allora vuol dire, se non fai che cosa, uno poi valuta come farlo, dove, e con chi in quale contesto, quindi anche in contesti dove abbia un senso, non ha così, perché uno si alza la mattina, è chiaro cosa voglio dire, però questa cosa risolverebbe molto facilmente il problema, senza andare tutto il discorso del test antidoping con l'ufficiale, guarda che è una cosa complicatissima, che ripeto, nessuno, nessuno verrà mai a fare, a farvi, o a proporre, nessuno, è chiaro, perché si dice insieme, ah perché non fa il test antidoping, uno dice, si lo faccio, e quindi, e chi lo fa, dove, come, avete capito? invece quella roba lì, faccio un esempio, faccio un esempio, non so, io, o qualcun altro che magari, è così, in questa ottica di, di dubbio, si fa un, un video in un contesto, dove c'è il soggetto, ci sono chi propone, dove c'è il soggetto, diciamo, in questione, accusato, accusato di, di doping, c'è chi propone questa cosa, che si, che si ad opera per farla, quindi nel video si vede, si vede tutto, c'è il soggetto che sta lì, che fa il prelievo, le provette vengono poi segnate, non so, ci sarà comunque un modo per, eh, poi verranno portate all'istituto e al laboratorio, dicendo quale laboratorio, dove, eccetera, eccetera, tutto ripreso, tutto fatto, dopodiché ci sarà anche il ritiro del referto, anche quello che poi verrà mostrato ufficialmente, con il nome, con gli ometissi, quando, come il risultato, eh, quello, queste quante, poi verrà divulgato, a me sembra molto semplice, non vedo ostacoli grossi, se non la volontà di uno che non lo vuol fare, perché chiaramente, eh, non lo vuol fare, quindi, io personalmente non ho problemi, ripeto, però in contesti, contesti che abbiano un senso, e non così a dar retta a casaccio, a chiunque venga solo qui a provocare, a diffamare, eccetera, eccetera, in un contesto fatto con persone credibili, persone perbene, magari con soggetti anche, magari con soggetti anche più di uno, potrei essere io con un altro, o altri due che sono nella stessa situazione, e si fa questa cosa, perché qui, perché qui, siccome adesso qui siamo nella, questo, dunque, l'anno il 2023, ma forse anche il 2023, ma anche il 2024, forse verrà ricordato come l'anno dei fenomeni genetici, no? Cioè, sono sbuccati i fenomeni ovunque, di forza, di massi muscolari, di tutto, è un anno, sono anni particolari, capita magari nella storia, che in qualche anno c'è un boom di qualcosa, no? C'è stato l'anno del boom delle cavallette, faccio per dire, l'anno del boom, ecco, questo è l'anno, l'anno scorso, forse anche questo, sono, sono gli anni dei boom dei fenomeni genetici, ok? E quindi, siccome questa diatriba esiste da sempre, nel, nel culturismo, da sempre c'è diatriba, natura, non natura, eh, questo è un sistema abbastanza semplice, ragazzi, che potrebbe veramente chiudere il cerchio in tante questioni, ovviamente io ve l'ho detto così per, come proposta, probabilmente cadrà nel nulla, perché poi, chissà qua come funziona, però ve l'ho detto affinché voi sappiate, che, questa cosa si può fare, e quindi, valutate voi, poi chi è disposto a farla, nei contesti giusti, con le persone giuste, ripeto, valutate voi chi è disposto a farlo, io ci sono, in questo momento, nessun problema, no, dato che si dice che sono in TRT, no, se io fossi in TRT, facendo quell'esame, pensate che non si vedrebbe, la situazione della, intanto avrei le guadropine azzerate, perché, chi fa, chi fa, la TRT, sì, può mantenere livelli di ormoni, TRT quella, normale, può mantenere livelli di ormoni, nella norma, ma comunque il sistema è inibito, cioè, chi fa la TRT avrà il sistema inibito a vita, chiaro, non so se mi rendo, per questo che, prima di farmi una pensazione, perché dopo, una volta che si comincia, non si può più interrompere, per cui, io sono in queste condizioni, ma, ovviamente, assolutamente no, sono assolutamente tranquillo, e quindi, remeditate su quello che ho detto, dite la vostra opinione, e preparatevi, per cose che dovranno avvenire, e aspettatevi di tutto, ok? Al top!